Seconde round Oh eh Oh eh dai Oh eh entro esco entro esco Oh eh Oh eh dai ancora Giro Oh eh bravo così Primo tu Oh eh dai Oh eh bravo Oh eh dai Oh eh dai bravo seguilo Seguilo oh eh Dai box Oh eh dai Oh eh dai braccia Oh eh Usa le braccia Oh eh Oh eh dai Oh eh dai Dai tu dai tu Giro Dai dai Un minuto dai Oh eh 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 bravo così Oh eh Chiudilo Dai bravissimo Vai tu vai tu Oh eh Oh eh dai Oh eh dai Oh eh dai Dai Che finito oh eh Bravo 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 parti subito Parti subito Dai subito Subito Vai tu, vai tu subito Dai che è finito Dai, dai Usa le braccia Grazie